25 anni dedicati alla riscoperta delle bellezze del patrimonio culturale italiano. L'impegno del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, ha portato avanti una marcia dedita alla valorizzazione di ogni territorio nazionale, che ha visto una presenza di anno in anno maggiore nelle giornate di primavera, che per un weekend aprono le porte di luoghi altrimenti inaccessibili o poco noti. Il 25 e 26 marzo saranno 51 i luoghi di libero accesso in Abruzzo e 17 in Molise. Noi apriamo dei palazzi storici e non lo facciamo a caso, ma queste aperture a Casalbordino sono il frutto di un percorso che abbiamo avviato negli anni con la delegazione di Vasto e sono in linea con le aperture di altri palazzi storici aperti in occasione di altre giornate FAI di primavera e ci consentono così di delineare un po' la produzione, il gusto architettonico-artistico dei nostri territori, non solo ma anche offrono l'occasione di parlare delle famiglie a vario titolo per arte, per cultura, per storia, per ingegno famose dei nostri territori alle quali va il merito di averci lasciato il patrimonio che ci hanno lasciato. Ogni territorio abruzzese poi avrà a sua volta una declinazione di bellezze da mettere in mostra. L'elenco completo dei siti è consultabile sul sito www.giornatedelfai che quest'anno annovera in Italia mille siti in 400 diverse località. Abbiamo ancora tantissime cose da far vedere qui in Abruzzo. Noi desideriamo soltanto una cosa, cioè che gli abruzzesi si rendano sempre più conto di quello che hanno sopra e sottoterra e che lo guardino con la stessa attenzione e lo stesso amore con cui lo guardano gli abruzzesi che sono emigrati.